Sto provando a fare delle talè con dell'olivo, l'avevo già preparato e messo nei vasetti questi ramettini tutti già preparati e tagliati. Non so se funziona la tecnica ma noi ci proviamo. Un zuppo nel miele, poi nella cannella, poi ci facciamo un buchettino qui e lo interriamo così. E vado avanti così, c'è una marea di rametti di una pianta lassù.